Il primo a essere cauto sono io, ma se dico che possiamo passare in zona arancione è perché ho gli elementi o i dati per dire che lo possiamo fare. Eccolo il grafico che più di tutti ci fa capire quanta strada la nostra regione abbia fatto da novembre ad oggi per consentire dunque un allentamento delle misure anti-Covid. Dai 2.371 nuovi contagiati del 17 novembre ai 776 del 2 dicembre. Nonostante alcuni sindaci non siano d'accordo, Gianni, ad Arezzo per l'inaugurazione dei sei posti in terapia intensiva, ha annunciato che la Toscana ha tutte le caratteristiche per poter tornare quantomeno arancione. La Toscana si risveglia con 149 comuni su 273, la netta maggioranza senza alcun nuovo contagio. Sono invece 124 quelli che ancora hanno contagi rispetto ai tempi 20 giorni fa o mese fa in cui per due giorni abbiamo superato i 2.700 e di strada ne abbiamo fatta. Negozi aperti dunque per consentire una boccata d'ossigeno a tutte quelle categorie rimaste chiuse in questo periodo. Poco o niente cambierà purtroppo per bar e ristoranti. Solo chi alloggerà negli alberghi potrà anche cenare.